Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Oggi sono davvero molto contento di tornare al cantautorato femminile, ma il cantautorato è anche un po' ristrettivo in questo caso perché l'artista in questione è veramente molto eclettica. Quindi sono contento di dare un virtuale benvenuto in Australia a Elektra Nicotra. Ciao Elektra. Ciao, grazie. Grazie mille per avermi invitata. No, no, grazie a te per esserci. Intanto ti chiedo se sei mai stata in Australia, forse no perché mi avresti detto, ma se comunque ti viene in mente qualche connessione con questo paese. Devo dire assolutamente no. Mi piacerebbe tantissimo visitare l'Australia, davvero, però non c'è mai stata l'occasione, non c'è stata nessuna connessione. Speriamo che si crei nel futuro. Oh, sono il primo, la prima connessione, quindi mi fa molto piacere. Da qui vedremo un po' di far partire una strada che ti porterà in Australia. Intanto ci arriva la tua voce e ci arriva la tua musica. Abbiamo già ascoltato un pezzo in anteprima. Questo perché hai pubblicato un nuovo album che si chiama Menzanotti. Poi lo dirai meglio tu. Ovviamente c'è il siciliano di mezzo, cioè parecchio siciliano di mezzo, quindi mi aiuterai con i titoli. Ma io ti faccio i complimenti perché è sempre tanto bello, soprattutto per chi come me si occupa di musica quotidianamente, trovare nuove cose. E questo album è una cosa assolutamente nuova, figlia di tanti tuoi ascolti, di una preparazione evidente, insomma di una che con la musica c'è nata e c'è cresciuta e che la rispetta e la cura. E questo a me fa sempre molto piacere. Quindi i complimenti te ne ho fatti, te ne farò altri sicuramente, per forza ti toccheranno. Quello che colpisce maggiormente di questo nuovo album, anche forse un po' di più rispetto al primo, è questa contaminazione totale di qualsiasi cosa. Beh sì, devo dire che il concetto di Melting Pot si sposa bene con questo album ed il resto è un po' anche la situazione in cui io vivo, perché io vivo nel centro storico di Catania e vivo proprio sopra la fiera che si tiene ogni giorno. E qui c'è davvero una miscela di cultura, perché ci sono i catanesi, quelli da milioni di generazioni, però poi c'è un ristorante indiano, quindi c'è una comunità di indiani, ci sono persone della Cina, ci sono persone arabe, ci sono persone del Senegal, africane, quindi proprio sotto casa mia c'è questo Melting Pot culturale e non puoi non rimanere invischiato in questo tipo di situazione. Devo dire che questo album, che ha tante influenze sonore che vengono da diverse parti del mondo, si sposa proprio bene con la mia quotidianità. Guarda, è un caso totale, perché non è una questione di uffici stampa, è proprio un caso, ma proprio tre o quattro puntate fa c'è stato un tuo vicino di casa, Mario Venuti, è stato ospite qui da noi e abbiamo parlato anche con Mario di Catania e di questa situazione molto molto particolare, molto bella in assoluto, poi lui ovviamente da cittadino ci raccontava anche qualche disagio che ovviamente non dipende dalla multiculturalità, ma anzi lui ce l'aveva soprattutto con i catanesi in realtà. So bene anche delle sue lotte, perché lui è un personaggio che vive molto la città, per cui quando ha qualcosa da dire non ha peli sulla lingua e questa è una cosa bella comunque. Assolutamente, infatti l'ho apprezzato molto io, ma l'hanno apprezzato anche gli ascoltatori, poi vabbè, un artista enorme, un artista enorme dal quale tutti noi prendiamo appunti e anche lui, molto molto vario, proprio come te, come quest'album. Allora, l'album è un concept album, ci sono i sogni di mezzo, io, poi me lo dirai, questa cosa del concept, cosa volevi esprimere, da dove nasce proprio tutta l'idea, intanto, vabbè, ti metto due domande insieme, ma chi se ne frega, i testi, a me, allora, ovviamente io non posso capire tutto, quello che mi ha colpito, poi magari sono anche un po' ignorante perché non conosco benissimo la musica popolare siciliana e neanche il vostro dialetto, a me ha colpito il suono delle parole, è veramente, è come se avessi creato una lingua più internazionale dell'italiano, non so come dire, anche questo utilizzo, per forza, no, nel dialetto ci sono tante U, a me è venuto in mente che per esempio anche in inglese ci sono tante U più che nell'italiano, insomma, il suono poi risulta internazionale anche delle parole, della voce e non soltanto musicalmente. Beh, devo dire che hai azzeccato in pieno perché comunque quando io scrivo un testo la prima cosa che vado a cercare è il suono e poi cerco di dargli un senso anche rispetto a quello che voglio dire in partenza perché diciamo che io parto da questo sogno, quindi ho un canovaccio di quello che voglio dire, però poi vado a cercarmi le parole che hanno un determinato suono ed è anche per questo motivo che poi vado a switchare tra l'inglese e il siciliano perché magari io sto cercando quel suono particolare e quindi magari so che con il siciliano non posso andare allora lì mi servo dell'inglese per buono perché secondo me è la cosa principale, è la cosa più importante, quindi proprio hai puntato, hai fatto centro davvero. Mi fa piacere, guarda in base a quello che hai detto mi hai fatto venire in mente una cosa che mi aveva detto Beppe Dati che è un autore storico della nostra musica dal quale io ero andato a lezione quando ero ragazzino proprio 16-17 anni ho fatto qualche lezione con Beppe Dati e lui tra gli altri per esempio è stato autore anche di Raff e c'era una canzone nello specifico che Raff aveva scritto in finto inglese e Ritornello faceva Something on my mind e lui è partito da lì perché dice suona troppo bene non voglio toglierla non voglio togliere il suono e ha fatto Santi nel via vai ecco quindi mi sembra mi sembra che tu abbia un po' lo stesso approccio per certi versi sì sì assolutamente bello quindi invece tornando ai sogni questa cosa mi interessa beh ecco io a me piace sempre l'idea del concept album proprio partendo dal concept album assoluto che per me è Dark Side of the Moon che è un po' introspettivo e un po' studia l'antropologia umana tutto quello che fa impazzire la gente ed è il concept album più bello mai fatto quindi mi piace dare l'idea di un disco che si racconta che dove tutto è collegato il primo album che ho fatto era un concept album che però parlava di un percorso spirituale di risveglio questa volta comunque partendo sempre dalla crescita individuale personale ho deciso di parlare dei sogni perché i sogni dicono tanto di noi stessi ma la cosa bella di un sogno è che avendo un linguaggio universale il sogno può essere interpretato un mio sogno può essere interpretato dagli altri in modi sempre diversi e quindi mi piace anche l'idea che io ti racconto quello che ho sognato e poi tu ci vedi qualcosa la tua interpretazione è sempre personale quindi tralasciando le Freud Jung e tutte le grandi interpretazioni dei sogni è bello invece vedere le persone e dicono ma secondo me se hai sognato questa cosa significa questo e quindi ho iniziato ad appuntare tutti i sogni che ho fatto io faccio dei sogni molto fantasiosi per un certo periodo di tempo li ho scritti e li ho trasformati in delle canzoni e cercavo anche di revocare l'atmosfera di quel sogno se era qualcosa di tenebroso che metteva angoscia oppure se era qualcosa di bello di gioioso che mi ricordasse la natura quindi anche la scelta dei suoni è legata all'atmosfera del sogno e così è nato l'album bello 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 davvero bello il caso di dire non smettere di sognare in tutti i sensi visto il risultato ma quello mai perché passo più tempo nel mondo dei sogni che nella realtà per cui non c'è pericolo davvero bene bene beata te beata te Electra allora lascio un attimo l'album perché appunto ho detto prima che sei tante cose sei una cantautrice quindi autrice di canzoni cantante sei musicista ma sei polistrumentista cioè suoni un po' tutto poi c'è anche la moda nella tua vita c'è la grafica il disegno ci sono veramente tante tante cose ecco in questa fase è bello avere ovviamente tanti interessi ti stai concentrando di più sulla musica o comunque mi tieni tutto aperto no io tengo davvero tutto aperto perché la mia giornata tipo è comincio con una grafica e poi passo alla chitarra cioè la mia giornata di oggi è che io stamattina aspettando te ero sull'iPad con l'Apple Pencil che disegnavo una grafica però oggi pomeriggio già devo prepararmi le cose perché stasera andiamo a suonare per cui c'è tutto fa tutto parte della mia vita la mia giornata è sempre così divisa tra la grafica la moda e la musica ecco guarda è un buon modo anche per invogliare ulteriormente gli ascoltatori ad andarti a cercare perché un po' di musica l'avete ascoltata e ne ascolteremo ancora un altro pezzo adesso in chiusura però veramente andatevi a vedere per esempio la copertina di questo album di Electra Nicotra Menzanotti perché l'ha fatta lei ed è veramente interessante anche a livello artistico e grafico quindi è veramente una ragazza talentuosa questa Electra ovviamente io invito tutti ad andarti a cercare sui social Instagram Facebook Spotify insomma supportatela se siete in Italia andatela a vedere live seguitela acquistate l'album se ne avete la possibilità insomma in generale seguiamola ti chiedo per chiudere con quale canzone di questo nuovo album vuoi chiudere questa nostra chiacchierata e ti chiedo il perché della scelta io direi che potremmo chiudere con La Fannurutempu che è una canzone che ha delle sonorità molto estive e che parla di questa nostra corsa spasmodica contro il tempo riprendendo un po' il mito di Kronos che sbrana i suoi figli proprio per dire dalle persone è vero che siamo in un'epoca in cui tutto va veloce siamo attaccati ai nostri social eccetera però è anche bello fermarsi e pensare al momento presente senza farsi mangiare sbranare dal tempo quindi non viviamo sempre in accelerata possiamo anche rallentare un attimo e goderci le cose e questo è un concetto molto importante che forse forse gli ascoltatori che stanno in Australia possono apprezzare un po' di più per lo stile di vita che c'è in Australia rispetto all'Italia ed è giusto sempre sottolinearlo quindi adesso ce l'ascoltiamo la Fannu Rutempu tra l'altro anche pronunciabile quindi grazie per la scelta anche a questo senso Electra si è pronunciato in modo perfetto grazie grazie sono un poliglotta del resto che devo fare è la mia origine tra l'altro Sant'Angelo è un cognome siciliano quindi da qualche parte nel sangue c'è c'è ci sarà Electra è stato veramente un grandissimo piacere io che sono in Italia spero di vederti presto live magari di prenderci anche una birretta nel frattempo come detto invito tutti a seguirla Electra Nicotra è stato un grande piacere ci sentiamo presto Electra grazie mille grazie mille a presto volete ascoltare altre storie come questa potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast